Omer, spero che tu mi senta, sono in prigione, ho bisogno di 10.000 dollari di cauzione, sbrigati! Margie e Bart abbiamo fatto a botte con un sorvegliante del casino, si chiama Picasso Ron, Ron Picasso. Siamo nella prigione di Stato del Nevada, fra l'altro non so dove è finito Bart, se lo vedi salutamelo, eh! Beh Maggie, lo sapevo che prima o poi saremmo rimaste solo io e te, domani andrò a cercarmi il lavoro. Grazie a tutti!